Laura Codrut a Covesi è la nuova procuratrice capo europea. La sua procura dovrà perseguire i crimini finanziari contro il bilancio dell'Unione. La Covesi in Romania guidava il reparto anticorruzione, dove non ha avuto riguardi per il potere politico. 2000 i casi esaminati, 900 le condanne inflitte. Il nostro corrispondente a Bruxelles, Gavino Moritti, l'ha intervistata. Vediamo. Per la prima volta abbiamo una procura a livello europeo e i reati contro gli interessi finanziari dell'Unione saranno indagati in modo strategico e integrato da una procura con giurisdizione sovranazionale. Le indagini condotte finora riguardano reati di frode all'interno dell'Unione europea che hanno talvolta sofferto di una mancanza di coordinamento e non sono sempre stati la priorità delle autorità nazionali. Prima di trasferirsi in Lussemburgo, lei ha guidato il dipartimento anticorruzione in Romania. È stata un'esperienza difficile. Cos'ha imparato da quel lavoro precedente? È stata una missione molto impegnativa. Gli ultimi anni, posso dirlo, sono stati i più difficili della mia vita personale e professionale, ma per tutto il tempo sono stata sostenuta da migliaia di persone che credevano nella lotta alla corruzione, nello Stato di diritto e nei valori europei. Non avrei potuto avere successo senza il loro aiuto e la lezione che ho imparato è quella di non arrendersi mai. Cosa prova a essere la prima donna magistrato scelta dalle istituzioni europee per guidare questa nuova procura? Ebbene, la prima cosa che ho sentito quando sono stata nominata procuratore più di 25 anni fa in Romania è stata che il ruolo di pubblico ministero non era un lavoro per donne. Quindi ho dovuto lavorare di più solo per dimostrare che una donna, svolgendo le funzioni di pubblico ministero, può essere una professionista e può essere brava, come qualsiasi uomo. Ora mi sento onorata di ricoprire il ruolo di procuratrice generale europea, come ero onorata quando sono stata procuratrice generale in Romania. Nel suo lavoro quanto si concentrerà sull'utilizzo corretto delle risorse del Recovery Fund? Indagheremo su tutti quei reati relativi ai fondi dell'Unione che vengono stanziati per il Recovery Fund. La nostra giurisdizione riguarda le indagini sulla criminalità economica e finanziaria e questa è la minaccia più comune a qualsiasi società democratica. È una minaccia sottostimata, sottovalutata, spesso addirittura tollerata a vantaggio delle organizzazioni criminali organizzate che aspirano a sovvertire e sostituire l'autorità legittima. Noi siamo un unico ufficio che opera in 22 stati membri, tra cui l'Italia. E come ho detto, ci concentreremo su tutti gli stati dell'Unione su cui abbiamo la giurisdizione per agire. In centinaia sono scesi oggi in piazza a Budapest contro il progetto sponsorizzato da Orban di costruire la prima università cinese in Europa.